Ciao a tutti e benvenuti alle mie pillole di pilates. Oggi andiamo a vedere un altro principio base del pilates che è la flessione della parte alta della colonna. L'idea è di andare ad articolare la zona cervicale e la zona più alta della colonna vertebrale senza coinvolgere il bacino. Dobbiamo pensare di andare ad allungare, a sentire uno stretching sul retro del collo mentre attiviamo consapevolmente la parte ulteriore. Quindi non dobbiamo sentire tensioni dietro se non un senso di allungamento piacevole, mentre dobbiamo sentire che si attivano tutti i muscoli sul davanti del collo e cercare di resistere il più possibile anche se può essere fastidioso. Sempre sdraiati a pancia in su, inspiro per preparare e mentre espiro immagino di tracciare con il naso una linea immaginaria al soffitto che va da dietro di me ai miei piedi. Poi porto il mento nel collo immaginando di stringere una pallina tra mento e collo e infine porto la testa sul petto alzandomi più o meno fino alla base delle scapole. Inspiro da qua pensando di buttare l'aria dietro posteriormente lateralmente nella cassa toracica, espiro e srotolo vertebra dopo vertebra tutta la zona cervicale fino a tornare con la testa al pavimento. Inspiro senza far niente, fuori, traccio la linea col naso, mento nel collo, testa sul petto, in, sento l'aria che spinge contro il pavimento in modo da non aprire le costole sul davanti, fuori srotolo tornando a terra pensando di andare ad appoggiare prima la nuca e poi rilasso il collo. E ripeto, inspiro, preparo, fuori l'aria, naso, mento, testa sul petto senza chiudere le spalle, fuori, torno al pavimento, mento incollato al collo fino alla fine e poi rilasso. Se voglio un feedback maggiore metto le mani sul bacino neutro e faccio attenzione a non attivare il bacino in retroversione per alzarmi alla base delle scapole. È molto utile come esercizio soprattutto per chi ha problemi di cervicale. Ancora una volta, inspiro per preparare, fuori l'aria vengo su naso, mento, testa sul petto, in, butto l'aria dietro al pavimento e fuori l'aria vado a srotolare vertebra dopo vertebra cercando di allungare tutto il collo al pavimento e poi rilasso alla fine. Questo è tutto, a presto, ciao! Grazie a tutti!